Sì, papà. Vieni. Sapevi che c'era questo in casa tua? Non sono sicuro di essere ancora in casa mia. Nasconditi, Black. Mamma. Cento settimane da quando è scomparsa. Cento le volte che avrei voluto dirtelo. Nuru, Dusu, doppia metamorfosi! Cento volte ho provato a prendere il miracolo stile di Baga e Chat Noir per riportarla indietro e pensare che la soluzione si trovava proprio qui, sotto il mio tetto. Effemeral, sono tuo padre, Falena Oscura. Ti sto dando il potere di velocizzare il tempo per aiutarmi a riportare indietro tua madre. Tutto ciò che ti chiedo in cambio sono i Miraculous di Ladybug e il tuo. Non puoi chiedermi questo. No. No. Mi hai capito, figliolo? Sì, papà. Basta, Guami. Sono io il tuo padrone, ora. Adria? Ciao, Ladybug. Tiki, trasformami! Lucky car! Può essere questa l'ora della tua sconfitta? Scusa, ti prometto che non ci vorrà molto. Il tempo vola quando ci si diverte. Scappare non ha senso. Tra qualche seconda sarai di nuovo solo una ragazzina senza alcun potere. Sass è nella mia scatola da cucito. Marinette! Quegli orecchie sono miei! Oh, no! Adria, aiutami! Finalmente! Finalmente il mio più grande desiderio sta per avvenarsi! Scusate! Mi ha mandato Marinette! Sass! Tranquilli, lui sa! Sass! Marinette mi ha inviato questo. Penso che voglia tornare indietro a un momento preciso ma sa che non posso più farlo. Tu non puoi, ma io posso. Posso tornare indietro a qualunque segnaposto temporale fissato in passato. Ma quando un Guami usa il suo potere senza un possessore ci sono conseguenze disastrose. La situazione deve essere davvero disperata se il guardiano suggerisce di farlo. Questo no! È la fine del mondo! No! Ma che succede? Falena scura deve aver preso il Miraculous di Ladybug e Chat Noir e ha espresso un desiderio. Ma che cosa c'entra con la fine del mondo? Immagina il mondo come il tuo quaderno di scuola. Tutto è scritto in blu ma ora vuoi che sia rosso. Prima di poter riscrivere tutto nel colore che ti piace devi cancellare quello che c'è già scritto in blu. Succede quando qualcuno esprime un desiderio l'universo viene distrutto e poi interamente ricostruito. Ma non si sa come! Sash, sbrigati! Seconda occasione! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada